Ezechiele che si fa il bagaglio ed esce fuori, esiliato da Gerusalemme, è il simbolo del popolo di Israele che è lontano da Dio. Ma c'è un messaggio ancora più importante. Ezechiele è simbolo, non segno. Lui vive nella sua carne, la lontananza di questo popolo. A quanto pare potremmo dire lui sta pagando per il suo popolo. Ma chi ha pagato per tutti? In fondo Ezechiele è il simbolo di Gesù Cristo, colui che ha pagato quel grande debito di cui ci parla il Vangelo, 10.000 talenti. È un debito enorme che nessuno mai, tutta l'umanità non potrebbe mai saldare. E allora l'errore del servo che è il debito è l'errore nostro che non ci rendiamo conto quanto Dio ci ha perdonato, quanto Dio ci ha redento, solo quanto questa certezza, questa esperienza si fa carne nella nostra vita, saremo capaci di perdonare. Nessuno di noi saprebbe perdonare se non si sente maledettamente, straordinariamente e follamente perdonato da Dio per il nostro immenso debito. Buon amissio.